Nimir Abdelaziz, dieci partite vinte per Modena tra campionato e Coppa, un filotto importante, state trovando sempre più continuità anche su un campo difficile come quello di Padova. Sì, stiamo giocando sempre meglio, oggi era l'obiettivo di fare tre punti, questo abbiamo fatto, allora buon Natale a tutti e ci vediamo domenica, ciao!